Nella lezione precedente abbiamo introdotto i prodotti notevoli e abbiamo studiato il primo, somma per differenza. In questa lezione studieremo il secondo prodotto notevole, il quadrato di un binomio. Intanto vi ricordo che si chiamano prodotti notevoli perché sono il risultato di moltiplicazioni o potenze particolari calcolate tra polinomi. In questo caso il quadrato di un binomio è la potenza con l'esponente 2 di un binomio, cioè di un polinomio formato da due monomi. Come nella precedente lezione iniziamo da un esempio e facciamo tutti i calcoli senza conoscere la regola che ci semplificherà tutto il procedimento. Quindi, calcoliamo 2a più b alla seconda. Secondo la teoria delle potenze, dobbiamo fare 2a più b moltiplicato per se stesso due volte. Quindi 2a più b è la base della mia potenza, mentre 2 è il nostro esponente. Quindi ho moltiplicato 2a più b per se stesso due volte, cioè quante volte indica l'esponente. Quindi, seguendo tutti i passaggi, devo fare 2a per 2a che fa 4a alla seconda. Poi, passo al secondo termine, quindi b per 2a fa 2ab e b per b fa più b alla seconda. Quindi, controlliamo cosa abbiamo ottenuto. Abbiamo ottenuto due termini che sono il quadrato del primo termine e il quadrato del secondo, perché 4a alla seconda è il quadrato di 2a e b alla seconda è il quadrato di b. E poi abbiamo ottenuto questi due termini che sono simili, quindi li posso sommare. Allora, andiamo avanti col procedimento. 4a alla seconda lo copio perché non è simile a nessuno e sommo i due termini simili. 2ab più 2ab fa 4ab e poi copio b alla seconda. Quindi questo è il risultato finale del nostro prodotto, in questo caso della nostra potenza. Quindi, 2a più b alla seconda è uguale a il quadrato del primo termine, che è 4a alla seconda, più il quadrato del secondo termine, che è b alla seconda, più un particolare monomio. Questo monomio 4ab è 2a per b per 2. Quindi, guardando qua, questo particolare monomio l'ho ottenuto moltiplicando il primo termine, quindi 2a, per il secondo termine, quindi b, e moltiplicando di nuovo per 2. È quello che si chiama il doppio prodotto del primo termine per il secondo. Facciamo una sintesi. Noi abbiamo calcolato passo passo, quindi senza conoscere la scorciatoia, questa potenza 2a più b alla seconda. Abbiamo visto che viene 4a alla seconda più 4ab più b alla seconda. Quindi, ricapitoliamo. Il primo termine che ho ottenuto nel risultato è il quadrato del primo termine. b alla seconda è invece il quadrato del secondo termine. Poi abbiamo ottenuto un monomio particolare, 4ab, che è il risultato di 2a per b tutto moltiplicato per 2, quindi il doppio prodotto. Allora, chiamiamo a grande il nostro primo termine e b grande il secondo. Utilizziamo sempre le lettere maiuscole per non confonderci con le lettere minuscole dei monomi. Alla seconda abbiamo ottenuto il quadrato del primo termine, quindi a alla seconda. Poi, il quadrato del secondo termine, quindi b grande alla seconda. E abbiamo ottenuto il monomio 4ab, che è il doppio prodotto, quindi 2 per primo termine per il secondo termine. Quindi questa è la formula del quadrato di un binomio. Quindi il quadrato di un binomio è uguale al quadrato del primo termine più il quadrato del secondo termine più il doppio prodotto del primo termine per il secondo. L'ordine in cui li scrivete è indifferente, perché esiste la proprietà commutativa per l'addizione. Quindi se io scrivessi prima i due termini al quadrato e poi il doppio prodotto, il risultato non cambierebbe per la proprietà commutativa. Quindi questa è la strada semplice e corta che ci permette di semplificare tutta la procedura fatta prima, che a volte risulta molto laboriosa. Scriviamo a parole, quindi rileggiamo la definizione a parole guardando la formula. Il quadrato di un binomio è un trinomio, quindi un polinomio con tre termini, i cui termini sono il quadrato del primo monomio, il doppio prodotto del primo monomio per il secondo e il quadrato del secondo monomio. Quindi il quadrato di binomio ha come risultato un trinomio, mentre nella lezione precedente abbiamo visto che il risultato di somma per differenza è un binomio. Facciamo adesso qualche esempio. Allora, questa è la nostra formula di riferimento. Partiamo da quest'esempio. 2ax più 3b alla seconda. Allora, devo fare il quadrato del primo termine, quindi il quadrato di 2ax. Poi devo fare 2 per il prodotto di 2ax per 3b. E qua non servono parentesi perché la moltiplicazione ha la precedenza. Più il quadrato del secondo termine. A questo punto faccio i calcoli. 2ax alla seconda fa 4a alla seconda x alla seconda. Più, passiamo a questo prodotto, 2 per 2 per 3 fa 4 per 3, 12, abx per quanto riguarda la parte letterale. Più il quadrato del secondo termine che è 9b alla seconda. Quindi ho ottenuto il trinomio che è il risultato del quadrato di binomio. Facciamo un'osservazione. Guardiamo il segno dei vari termini ottenuti. Il segno dei due termini al quadrato, quindi di questo e di questo, sarà sempre positivo perché ogni quadrato ha il segno più. Perché sia se la potenza sia negativa, sia nel caso in cui la potenza sia negativa, il risultato verrebbe sempre positivo, perché più per più fa più e meno per meno fa più. Guardiamo invece il segno del doppio prodotto. Il segno del doppio prodotto non sarà sempre positivo, perché in questo caso è venuto positivo perché qui ho il segno più e qui ho il segno più, che è sottointeso. Quindi più per più mi dà il più. Ma se io avessi avuto qui un segno meno e qui più, più per meno mi avrebbe dato meno. Stessa cosa se avessi avuto qui il meno e qui il più, meno più e più più mi avrebbe dato sempre meno. Quindi, io posso ottenere il più nel doppio prodotto solo se i primi due termini, quindi A e B, hanno lo stesso segno, quindi meno e meno oppure più e più. Invece ottengo il segno negativo se i due termini hanno segno diverso. Quindi, se ho un meno, o ad A o a B, perché A e B li posso scambiare, ottengo negativo il doppio prodotto. Allora, calcoliamo questo quadrato di binomio. Devo fare il quadrato del primo termine, che viene 4A alla seconda, B alla seconda. Poi il doppio prodotto. Per il doppio prodotto guardo i segni. più per meno, meno, quindi viene meno, 2 per 2 per tre mezzi, le lettere A, B, C, più il quadrato del secondo termine, 9 quarti, C alla seconda. Quindi viene 4A alla seconda, B alla seconda, meno 2 per 2, 4, che posso semplificare con il 2 del denominatore, quindi viene 2 per 3, 6, A, B, C, più 9 quarti, C alla seconda. Una volta svolti i calcoli, posso controllare che sia giusto il risultato. Quindi vado a controllare che i due termini al quadrato siano effettivamente i quadrati dei termini iniziali. Quindi che 4A alla seconda, B, sia il quadrato di 2A, B, e lo è. E che 9 quarti, C alla seconda, sia il quadrato di 3,5C. Controllo loro e poi controllo il doppio prodotto. Devo controllare che questo effettivamente sia il doppio prodotto di questi due. Provate a calcolare questo, mettete in pausa, quando rimetterete play troverete la soluzione. Allora, vediamo la soluzione. Quadrato del primo termine, più 9X alla seconda. Il più posso anche non scriverlo. Doppio prodotto. Guardo i segni. Meno per più, meno. 3 per 2, 6, per 2, 12. XY. Più il quadrato del secondo termine, 4Y alla seconda. Provate adesso a calcolare questo. Vediamo la soluzione. Il quadrato del primo termine è un venticinquesimo X alla quarta. Il doppio prodotto ha il segno meno. Un quinto per 3,5 per 2 fa 3,5. X alla seconda, Y. Quadrato del secondo termine fa 9,4Y alla seconda. Il quadrato di un binomio segue la regola che abbiamo scritto in questo riguadro che può essere dimostrata geometricamente e lo vedremo in una delle prossime lezioni. e lo vedremo in una delle prossime lezioni.